E' un nuovo passo verso l'approvazione dell'ETF di Bitcoin, ETF spot per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America perché Grayscale vince in questo primo round ovviamente la sua battaglia contro la SEC per quanto riguarda il suo ETF spot di Bitcoin. Che cosa vuol dire questa cosa? La SEC probabilmente andrà in appello eccetera però sostanzialmente quello che viene meno un po' è tutta la logica che aveva avuto la SEC di andare a ribadire che non essendoci la possibilità di evitare alcune manipolazioni per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin questi ETF non potevano essere approvati. In sostanza invece un giudice federale in questo caso ha respinto quello che è stata l'idea della SEC e ha dato ragione a Grayscale. Grayscale che a questo punto fa da apripista un po' la ghietta che fa da apripista per quanto riguarda alcuni casi di vittoria cioè la SEC aveva perso contro XRP contro Ripple ma in questo caso riguarda proprio la presentazione dell'ETF. E' un evento del genere e ovviamente un evento un po' tagliente per quanto riguarda la SEC che non può continuare a difendere delle posizioni su delle idee che poi vengono respinte dalle varie corti d'appello. Ovviamente sarà in corte d'appello di nuovo farà appello la SEC però sostanzialmente ragazzi questo è un passo avanti verso l'approvazione dell'ETF. Poi nella notizia di ieri ovviamente ci sono state diverse reazioni tantissimi quelli che hanno preso le difese di Bitcoin e di Grayscale perché c'è stata l'approvazione quindi un po' dalle parti che hanno già presentato la domanda per l'ETF. non restiamo fuori dall'innovazione per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America altre nazioni stanno andando verso questa direzione quindi moltissimi si sono espressi relativamente a questo tipo di logica. Secondo me è la questione ma l'avevamo già detto a dire la verità ragazzi nel video che ho parlato dell'ETF. La questione dell'ETF di Bitcoin è una questione di quando non di te ma sicuramente la SEC sta perdendo pezzi il mercato un po' lo ha scontato e ha dato vita a un grande balzo di Bitcoin che però è anche un balzo che non raggiunge dei livelli attualmente così importanti da far modificare quello che è stato il trend di cui abbiamo parlato nei precedenti video. Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un video veloce splendido innovativo e ovviamente iscrivetevi se ancora non l'avete fatto al canale così mi date ancora una mano lasciatemi mi piace ragazzi su questi video ma poi a parte tutto ragioniamo un po' su quello che è successo come stiamo facendo ma guardiamo anche i grafici di Bitcoin perché vi faccio vedere come in effetti sia Bitcoin sia ETH si siano fermate va da bam 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 dove lunedì vi avevo detto essere il problema esattamente in croce delle due medie al momento quindi non è cambiato nulla nonostante il balzo di ieri sia stato condizionato alla notizia però secondo me nel medio lungo periodo cambia e cambia tanto cioè un ulteriore conferma di quello che ci siamo detti L'ETF di Bitcoin è una questione di quando e non di se e questo spingerà sicuramente il re delle criptovalute ad entrare un po' nei neandri della finanza internazionale perché se andrà provato negli Stati Uniti diventa finanza internazionale di grande rilievo e potrebbe perché no raggiungere ovviamente altre prestazioni insomma essere acquistato anche dai fondi pensione da chiunque insomma noi in questo caso allora ci sono poi delle logiche da andare a ribadire ma ovviamente le abbiamo già fatte nei vari video ragazzi andatele a spulciare quelli soprattutto sugli ETF di Bitcoin magari ve lo linko sulla mia testa e così noi possiamo andare a fare anche le varie analisi Volevo farvi vedere prima la questione anche dei dati economici relativi a facciamo insieme la questione filtri o filtro sempre così lo vedete anche voi lo potete fare anche con tranquillità metto esempio Eurozona Stati Uniti il top delle tre stelle poi vado a ragionare su tutti i dati di questa settimana l'unico dato rilevante da andare a guardare è il PIL attenzione perché il PIL è sceso rispetto al previsto non è sceso rispetto al precedente quindi un po' la previsione è stata negata quindi il PIL qualcosina degli Stati Uniti ha perso però allo stesso punto è comunque salito rispetto al dato precedente in ogni caso si inizia forse a vedere un po' di stagnazione non rallentamento perché il rallentamento non se ne parla visto che abbiamo ancora un PIL nel secondo trimestre per gli Stati Uniti molto alto però è un po' una stagnazione c'è un po' fermo il PIL quindi si è fermata l'accelerazione questo è l'unico dato rilevante vi ricordo che poi il successivo dovrebbe essere il tasso di disoccupazione di venerdì e c'è anche l'infrazione europea domani in giornata alle ore 11 andiamo a vedere invece la reazione di Bitcoin perché questo rialzo che è avvenuto nella giornata di ieri è un rialzo poteroso che è avvenuto proprio sulla scia delle news vi faccio vedere il grafico a 15 minuti per farvi comprendere come sempre come Bitcoin fa questi movimenti a velocità inaudita perché qui parliamo della fase di prezzo di equilibrio precedente vi spiego un po' la teoria dei vari prezzi di equilibrio prezzo di equilibrio precedente circolazione delle nuove informazioni boom boom prezzo di equilibrio nuovo e riassestamento come sta facendo adesso con un nuovo trend in questo caso è un trend discendente ma lo sbilanciamento quindi il passaggio da un prezzo di equilibrio di 26.000 dollari a 28.000 dollari poi adesso sta tornando a scendere siamo vicini ai 27 però sostanzialmente in quanto tempo è avvenuto ragazzi guardate qui 5 minuti 5 minuti 5 minuti quindi 15 20 25 minuti circa e siamo arrivati più o meno ai prezzi stabili poi fatto l'ultima impennata come fa sempre poi si va a ritornare diciamo sui suoi passi perché soprattutto quelli che sono gli app dovuti alle news hanno di solito poco poco margine allora questo è quello che è successo ieri e anche dovuto al fatto che bitcoin è andato a breccare vedete questi che erano i livelli di resistenza quindi in sostanza ha creato una barra che poi è stata breccata cosa è successo noi abbiamo parlato lunedì del fatto che io mi aspettassi una data molto importante nella fine di questa settimana o la prossima quindi bitcoin dovrebbe in questo caso ha anticipato quelle che sono le questioni cicliche questo movimento è un movimento difficile da gestire intanto io non ho fatto nessuna operazione perché semplicemente non ero al pc e poi non mi va ancora di fare trading che sono un po' in feri poi ripartirò anche settimana prossima quindi in questo momento trading proprio veloce veloce non riesco a gestirlo e né le mie posizioni in holding sono entrate sono rimaste fuori perché la macchina il train system che ho creato che gestisce quelle posizioni è rimasto al paro quindi non è entrato è uscito molto bene intorno ai 29 30 mila dollari e non è rientrato e non credo lo farà a meno che il mercato non vada a fare delle cose che non ci aspettiamo minimamente allora in questa fase la questione ciclica quindi è rimasta un po' al palo che cosa è successo l'unica possibilità per questo movimento ragazzi al rialzo che è in quasi è un pump da news intanto l'unica possibilità di poter continuare questo movimento è che sul minimo del giorno prezzi bit stamp 22 di agosto oppure alcuni li hanno il 18 comunque in questa zona perché dipende quali guardate si sia chiuso un ciclo trimestrale corto formato o un bimensile se volete visto che sono 68 giorni formato in pratica da questi movimenti un movimento a 21 un movimento a 31 un movimento a 16 oppure un molto di meno se considerate bitfinex io però in questo contesto specifico non considererei bitfinex perché ha fatto da solo lasciato il 18 mentre se andiamo a guardare anche un altro dato che in questo caso secondo me è veramente rilevante che è il dato del future di bitcoin del cme possiamo andare a verificare che il minimo in questione è stato fatto più in più in là adesso si è bloccato lo riapre l'ha aperto ok il minimo vedete è stato fatto il giorno 23 quindi in questo caso addirittura non è neanche il 22 ma giorno 23 ora io considererei questo grafico perché guardate un po' è molto più preciso da alcuni punti di vista e secondo me in questo punto possiamo dare iniziato il nuovo ciclo mensile di bitcoin il nuovo ciclo mensile che vedete qui è il 22 invece del 23 ma cambia poco un giorno in più un giorno in meno come avete capito non cambia assolutamente niente siamo nel nuovo ciclo mensile ma questo nuovo ciclo eventuale mensile o appartenente al precedente se lo consideriamo da 16 e poi un altro 15 da fare ma questo lo vedremo tra poco questo nuovo mensile è il primo di un nuovo ciclo trimestrale da 60 70 giorni fatto un po' così allora solo in questo caso se siamo in un nuovo trimestrale questo movimento potrà proseguire nelle prossime giornate in tutti gli altri casi questo movimento finisce qui cioè sostanzialmente può tentare magari di ritornare a fare nuovamente 28 ma più di quello non può andare perché in pratica se siamo in un mensile nuovo appartenente al vecchio trimestrale che ancora non è stato chiuso dobbiamo andare a fare un nuovo minimo in questo modo qui se siamo invece nel vecchio mensile che è iniziato in questo punto ed ha fatto un minimo è ribassista quindi deve fare un nuovo minimo quindi dobbiamo tornare nuovamente qui sostanzialmente quindi l'unica possibilità affinché questo movimento possa continuare a salire è che qui sia stato chiuso un trimestrale corto in questo caso perché vedete vi faccio vedere i precedenti erano molto più lunghi quindi questo è stato da 97 questo da oltre 100 100 giornate aperte mi pare che fosse 110 109 esatto 109 giornate 97 giornate 68 ci può stare 68 sì ci può stare corto ma ci può stare siamo intorno ai 70 la sua media naturale è 75 80 quindi sostanzialmente un po più corto la volatilità dei periodi temporali è del 20% ragazzi ok quindi 70 80 20% sono 16 giorni circa si muovono un po in più un po in meno poi ci sono anche le eccezioni avete visto il 109 eccetera quindi gli cicli insomma bisogna sapere di maneggiare con cura non sono date precise dopo orologio svizzero con la suoneria però ci danno orizzonti temporali che sono fondamentali per comprendere appunto quello che ci stiamo dicendo in questo caso abbiamo un'idea molto logica che viene proprio dall'analisi ciclica ed è importantissima cioè questo movimento può essere rialzista può continuare solo se siamo in un nuovo trimestrale non c'è nessun'altra possibilità se invece non siamo in un nuovo trimestrale bisogna tornare a scendere ed è così e questo ce lo dice proprio la ciclica ed è insomma un'analisi è altissimo il profilo proprio perché dirà queste informazioni che ricordo che anche qui guardate la struttura pump iniziale bello sanizzo come si dice in gergo e poi è caduto in down qui è simile alla questione quindi se deve chiudere il ciclo rifà un movimento del genere se invece continua a salire qui è iniziato un nuovo trimestrale che poi ha ampiezza così e va in chiusura naturale intorno a novembre poi andremo a vedere se effettivamente qui può esserci un trimestrale che va a chiudere a novembre lo può fare bitcoin perché siamo ancora nella struttura di barra di congestione quindi mercato cammello in questa zona quindi sostanzialmente non cambia nulla in termini di trend di medio periodo siamo in un medio periodo siamo in barra di congestione laterale nel lungo siamo ancora in bear market nel lunghissimo siamo in hyper bull market e nel breve siamo in in mercato toro quindi in leggero long ma pochissimo perché vedete pochissimi giorni quindi in teoria vedete la struttura di brevissimo e long ma breve è un po' ancora ribassista quindi sostanzialmente dove si è fermato? sull'incrocio delle due medie mobili ed è in questo caso era una media mobile a 21 quella che usiamo sempre però ha fatto a scudo la media mobile a 200 periodi media mobile fondamentale che fa da spartiacco in sostanza questo atteggiamento di down e poi il ritorno su questo punto si chiama logica mean reverting cioè ritorno alla media per continuare il trend in atto trend in atto che è teoricamente al ribasso quindi questa è la linea di di regressione di regressione di regressione del trend che stiamo portando sta portando avanti bitcoin questa qui in questo momento una eccesso di allontanamento da questa media è il min reverting sulla media potrebbe anche andare qui su ragazzi vedete fare continuare a scendere intorno a questi prezzi medi quindi ricordatevi questi atteggiamenti di trend non c'è altra alternativa quindi io al momento non festeggio non faccio nulla a dirvi la verità per una casualità ma proprio fortuita mi trovavo una piccolissima posizione longa di bitcoin perché stavo facendo un cambio per il stato fortuito e ho avuto un problema nello spostamento da un wallet a un altro wallet di bitcoin che mi ha ritardato la vendita quindi poi ho venduto un po' di più perché era salito ma l'ho già cambiato quindi non erano una posizione che dovevo spostare ragazzi niente di che festerie quindi nessuna posizione di trend è stata fatta ho avuto solo un po' di fortuna nel guadagnare qualche commissioncina a causa di questo spostamento ma non farò altre posizioni sempre settimana prossima per quanto mi riguarda perché anche se fosse un trend nuovo è possibile rientrare quando quando andiamo a risuperare questi livelli o meglio quando il mercato può tentare di scendere in questa zona dandoci un risk molto basso di ingresso allora lì si potrebbe tentare nuovamente un ingresso per dire se siamo in un nuovo trimestrale poi mi fai una gamba del genere qui il rischio è basto perché vado immediatamente in stop in questo punto e quindi pago poco per una eventuale fase di long che però è poco probabile ve lo dico perché se il mercato ritorno a quei livelli il long è poco probabile quindi solo trading lì e poi va gestito eccetera quindi settimana prossima perché secondo me a livello ciclico ancora non ci siamo con i tempi quindi questa velocità del mercato un po' spiazzante amen se poi continua a salire entrerò a prezzi più alti non fa niente ovviamente queste sono cose logiche statistiche ragionate così n volte 20 30 volte e vincete sempre rispetto al mercato ragazzi non è il singolo caso che fa la differenza ma è la gestione di tutti gli altri casi quindi questo la questione anche pratica e il rialzo ha cambiato meno la diciamo i dati no come vi sto dicendo la stessa cosa ancora più visibile su eth che sbatte sull'ambiente mobile avventuro quello che utilizzo praticamente sempre anche qui un ritorno in min reverting sulla retta che di regressione è sul canale discendente vedete canale discendente identico al precedente tra le altre cose ed è un canale allargato ma comunque laterale e ribassista anche in questo caso la soluzione del trimestrale vedete andato in chiusura intorno al 10 di settembre potrebbe essere accorciato a 64 barra 69 seconda diciamo dei minimi ma qui su ethereum è più vicino avere il questo dato 65 giorni diciamo in generale perché vi ripeto su bitfinex ha fatto il shadow molto più profondo il giorno 18 però sostanzialmente è molto corto quindi io al momento attendo ancora perché qui potrebbe essere iniziato l'ultimo movimento che proprio va a chiudermi il trimestrale che è un classico movimento che fa proprio così ragazzi io non vado short in questo momento sul mercato delle crypto non mi piace lo sapete ma teoricamente per gli shortisti qui c'è una strategia short da andare a utilizzare ovviamente sempre seguendo il trend e poi in caso di breakout di questi massimi o di breakout del livello della canale discendente andarsi a prendere lo stop in questo caso al superamento perché lì indica un nuovo trend quindi bisogna uscire per proteggere la posizione ma qui teoricamente uno shortino leggerino si potrebbe fare sulla ripresa del trend in atto che è ribassista quindi è favore di trend in questo caso è lo short non il long io non lo faccio come ben sapete su bitcoin per niente sulle crypto sì ma in questo momento non lo faccio perché sono ve l'ho detto un po' con la testa ancora in ferie e non mi va di stare dietro ai grafici detto questo cosa ne pensate voi di questo momento rialzista continuerà non continuerà la notizia invece bomba che veramente portiamo a casa è quella dell'etf e della questione della sec che è un altro tassello che conferma che il prossimo anno potremmo poterne delle belle prepararsi formarsi essere assolutamente istruiti per cavalcare un eventuale onda è questa secondo me la riflessione che bisogna sempre fare ragazzi io non spero non credo di sbagliarmi ma lo vedremo il prossimo anno se sarà così e se le persone che si sono formate in quest'anno hanno di bear market hanno difficile l'anno per chi ha il coraggio di fare delle scelte saranno premiate secondo me è così la mia esperienza mi ha insegnato questo vedremo poi c'è sempre l'eccezione ma io credo fermamente in queste cose detto ciò vi auguro una buona continuazione di settimana noi ci vediamo nel prossimo video vi sa esce un'altra news ciao raga